Oggi vediamo come si può richiedere la rasterizzazione di una planimetria catastale con center nel contact center agenzia delle entrate qui si compila proprio cognome, nome, codice fiscale indirizzo mail, telefono e attività svolta nella videota successiva vediamo quello che dobbiamo attivare altre variazioni sull'immobile succede selezioniamo il catasto fabbricati selezioniamo la provincia dopo aver selezionato i campi precedenti selezioniamo il comune e selezioniamo informatizzazione planimetria e si procede in questa videota selezioniamo il protocollo la variazione o la scheda che richiediamo l'anno il numero dell'atto l'eventuale sezione il foglio la particella e il subalterno qui ci sono le note aggiuntive e poi si procede in quest'ultima videata dobbiamo dopo aver inserito i vari dati facciamo l'invio della richiesta è tutto buon lavoro dopo aver inserito i vari